E quindi non sono capace, non ci provo neanche a mettere le mani su un computer Non so se tipo sapete la cosa era di Gaurgura che prende il computer e gli fumava letteralmente il computer Perché ha collegato nelle cose eventuali di raffreddamento qualcosa ha collegato male Ecco io letteralmente gli darei fuoco al computer quindi preferisco non metterci le mani sopra Per me i computer sono le minorenni, sì belle da vedere però non ci metteresti mai le mani addosso, solo headpad Soltanto parte esterna dentro non ci metteresti mai le mani Diciamo che questo parallelismo è un po' sbagliato però è un po' come le loli Bella a vedere, sì ok, headpad è tutto, va bene utilizzare così però Le mani sopra nell'altro senso non ce le metterei mai Fare solo che casini